A rinvergire questi pasti e questo contenitore, come volevamo, sta funzionando da trattore, il saloccio buono della frattura tarantina e finisce per attirare interesse anche da fuori della provincia. La prima stagione è andata benissimo, ben oltre le più grosse aspettative anche da un punto di vista dell'equilibrio dei conti. Noi rafforziamo la nostra sicuramente vicinanza a questo contenitore, confermiamo la squadra che ha vinto questa stagione con il direttore Busco, con il Teatro Pubblico Pugliese almeno per un altro anno e a giudicare la qualità di ciò che stiamo proponendo ai tarantini e da come c'è entusiasmo intorno alla vita del Busco anche per la prossima stagione, penso che possiamo aspettarci da questo gioiello molto simbolico per la ripartenza di Taranto, ancora tante belle sorprese. Dopo l'estate riparte una nuova e ricca stagione, che cosa ha la sogna per questo nuovo periodo? Io sono contento già oggi, nel senso che avevamo chiesto all'organizzazione di tenere alta l'asticella, non volevamo compromessi, potenzieremo sicuramente anche l'offerta musicale, come dicevo i nomi attesi quest'anno, a volte in esclusiva sono di assoluta rilevanza, sono contento di vedere tanti sold out come è stato l'anno scorso, vuol dire che i tarantini amano la cultura, amano le cose belle, amano il buon vivere e noi le lo stiamo offrendo. Quindi questa immagine di questa Taranto sempre mortificata, sempre divisa, sempre lagnosa, ormai è alle spalle, i tarantini stanno reagendo e devo dire che il Fosco si presta anche a questa missione.